L'aspirante sollevatrice in realtà è stata costretta a cedere e la stessa forse nel ruolo di sollevata. Cosa di fare è allargare le gambe, mi spiace? Non è che bene esagerare, dai. Una divergazione media, così. Altra cosa è di sentire il mio respiro. Spera, mettiamoci qua, ce la farei, sì. Ecco, tu le semplicemente respirate... Sento che sbatterò la testa contro lo stipido della porta, me lo sento. Ecco, mettiamoci in questa posizione. Tranquilla, resta tranquilla. Stai rilassata, però, ti vede un po' rigida. Senti il respiro. Ecco, tu respira con me. Tranquilla. Tranquilla. E vedi, ci sta condannando. È così, tranquilla. Tranquilla, è una cosa semplice. È così, brava. Ecco, sto respiro. Ecco. Vedi, sollevata. Perfetta sollevazione, vedete? Essendo un'attrice, l'angolo di sollevazione perfetta, la trattendo soltanto un istante di più per farvi vedere la sua costrua. Gambe levemente raccolte alle caviglie. Perfetta angolazione. Levemente sfuggita la mano. Questa non c'entra niente. No, conservalo però. Se lo tagli sei un po' come gli altri. Grazie. Grazie.